ciao questa mattina facciamo una cosa diamo un po di scarti di verdura che ci sono stati regalati da un nostro amico c'è un po di tutto c'è dal sedano il cavolo zucca poi sotto c'è un po di frutta finocchio fiori di zucchine vediamo come gradisco eccoci pronti allora adesso guardiamo se riusciamo e con una mano ora tengo il telefono in alto la cassetta ce la facciamo mi sono anche buccato quindi ci sono anche dei carciofi eccoci vai all'assalto filipi pipi pipi le altre saranno a depurre comunque vedo che si per la notte hanno bene bene sì qualcosa la buccia di salame sì perché vendono anche vendono anche un po di affettati quindi ci sta che si siano fatti un panino e la buccia del salame l'hanno subito trovata quella dentro la bacinella non so se l'avete ha trovato un pezzo di pane quindi si è fatta la zuppa una la sta riportando dentro con la bianca niente gliel'hanno fregata gliel'ha fregate le altre due da isa brown ecco a penzoloni e un'altra buccia di salame eccola qua eccola qua eccola qua buccia di salame in gara per una buccia di salame bene bene ok brave brave spazzolate tutto ok ci vediamo dopo anche oggi non vorrei essere ripetitivo è però guardate in poche tempo è imbarazzante ormai speriamo basta acqua adesso li teniamo dentro un pochetto una mezz'oretta finché non mangiano e puliscono abbastanza bene qua e dopo le liberiamo ma intanto qua ecco che la panuia arriva anche la panuia ecco ma intanto con sto tempo si richiudono nel filile che ha coperto c'è poco da fare il zorro dai ci vediamo dopo e qui abbiamo messo pane focaccia pizza farina di riso e farina di castagna pili 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 altre sono rimaste dentro il recinto ma poi escono adesso appena visto loro va bene per oggi è tutto vi lascio con un anteprima in questa settimana farò un video ecco che tanto arrivano le altre eccole vi farò un video dove daremo alle nostre galline tre chili di pasta scegliete tra mezze penne e spaghetti fatemelo sapere nei commenti ciao a tutti iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ciao